Ecco questa seconda ora è dedicata alla vorticità. La vorticità nei fluidi viscosi è una cosa che uno ha un nome un po' pericoloso perché uno pensa che la vorticità sia legata ai vortici, è vero, la vorticità è legata anche ai vortici, ma la vorticità c'è anche in moti che non hanno niente di vorticoso, per esempio nel moto che abbiamo visto nel moto di Poiseuille, quello nella striscia o quello nel tubo e la vorticità c'è, c'è e com'è, ed è dovuta al fatto che cambiando di posizione la velocità cambia di intensità. Certo se il moto fosse rigido non ci sarebbe vorticità, ma nel momento in cui il moto non è rigido la vorticità c'è e quindi siccome questo poi è uno dei protagonisti della, diciamo, di quello che non si sa dell'equazione di Navier-Stokes, allora andiamo a vedere un po' di proprietà semplici della viscosità nei fluidi viscosi e poi vedremo un pochino anche che cosa succede nel caso piano che è quello tutto sommato un po' più semplice, quello in cui anche il problema di Navier-Stokes poi di fatto si risolve e così per dare, per completare questa panoramica. Poi l'ultima ora sarà dedicata invece a una panoramica nella panoramica, cioè il problema dell'equazione di Navier-Stokes, il problema ancora aperto da un milione di dollari, ma ci torneremo all'ora successiva. Consideriamo allora il vettore Omega, il rotore di V, e andiamo a vedere un pochino nei due casi che abbiamo trovato la sua espressione. Cominciamo a prendere il caso di Poisei, quello nel cilindro. Ok, allora piazziamo l'asse Z lungo l'asse del cilindro e la velocità era data da W di Rho per EZ con W di Rho data da, se non ricordo il segno, c fratto 4 nu, comunque R quadro meno Rho quadro. Allora quanto vale il rotore di V? Il rotore di V se uno va a prendersi una formula, un formulario delle coordinate cilindriche viene meno la derivata di W fatta rispetto a Rho per Eθ, questa è la vorticità. quindi la vorticità in questo caso qui è diretta tangenzialmente alle circonferenze che hanno uguale velocità. Quanto vale? Vediamo, mi vale meno c fratto 2 nu con più c fratto 2 nu per Rho. Di conseguenza in questo tipo di moto la vorticità è massima vicino alle pareti del tubo, quindi massima se Rho è uguale a R e minima se Rho è uguale a 0. E la stessa cosa succede nel caso di Poisei Piano. Perché lì se ricordate, vabbè, lì erano semplicemente cambiate, è la stessa cosa, perché lì la U era uguale a una costante, mi sembra che anche lì fosse cifra 8, 4, 1, non mi ricordo, per HZ meno Z quadro. Ecco nel caso in cui le velocità siano 0 in questi due punti, allora anche lì è più facile, perché siamo in coordinate cartesiane, il rotore dv c'è soltanto la componente, questa sarebbe dU su dz, e quindi è diretta lungo E2. Quindi sarebbe, controlliamo il segno, E1, E2, E3, dx, dy, dz, u, v, w, w, quindi dx, w, ecco, infatti c'è la meno dU su dz, per E2, ah no però quello è quello in mezzo, mi sa che quindi è col più. Vabbè, adesso di là del segno, vedete che viene cifra 4 nu per H meno 2z, e quindi praticamente il modulo, la vorticità, il rotore di omega, è massimo quando z è uguale a più o meno H, perché quando z è uguale, scusate, quando z è uguale a 0 o H, cioè ai bordi, anche in questo caso. ecco, quindi invece per z uguale a 0 viene H, per z uguale a H viene meno H, invece è nulla, anche in questo caso al centro. Nel caso del moto di QET, questa è ancora più sorprendente, perché uno pensa che il moto di QET, siccome è una cosa che ruota, chissà che, chissà che vorticità ha. Ecco, allora in questo caso qui, se ricordate, la velocità, stavolta era tutta trasversale, era Vθ di ρ per Eθ, ed era data da A per ρ più B fratto ρ con A e B, due coefficienti che avevamo determinato in funzione delle velocità angolari dei due cilindri. Ebbene, l'espressione, in questo caso, del rotore, è la seguente. 1 su ρ, d su d ρ, di ρVθ, e questo diretto lungo EZ. che quindi fa, andiamo a fare il conto, se io prendo, questa è la derivata rispetto a ρ, di ρVθ, quindi ρVθ sarebbe A ρ al quadrato più B per EZ. Allora, se io derivo rispetto a ρ, intanto vedo che non dipende da B, qui mi viene, scusate, qui c'è un 1 su ρ che ho dimenticato, quindi 1 su ρ per 2A ρ, e quindi viene 2A. Quindi in questo caso particolare, la vorticità è addirittura costante, anche se uno non se l'aspetterebbe. Ecco allora, riprendiamo, nel caso generale, l'equazione di Beltrani, che è l'equazione che governa l'evoluzione della vorticità. Allora, come dovreste averla vista voi con Sara, dovrebbe essere così, il radiente di V applicato a ω più 1 fratto 2ρ, rotore di A. Ecco, in quella formula lì, ω era definita come 1 mezzo rotore di V. Ecco, invece noi vorremmo che ω fosse rotore di V, per cui sostanzialmente dobbiamo togliere il 2, ok? Quindi con la nostra notazione ω è rotore di V, e quindi è come se fosse 2 ω, quindi alla fine la cosa si semplifica. Ecco, vediamo un attimo, questa vale in generale, adesso andiamo a scrivere che cosa succede per un moto viscoso, incomprimibile, quindi incomprimibile e omogeneo, prendiamo ρ uguale a ρ0, per cui a questo punto vediamo che ρ0 per A è uguale a meno gradiente di P più μ la placciano di V. Quindi se vogliamo dividere per ρ0, così si semplifica, abbiamo che A è uguale a meno gradiente di P su ρ0 più ν, la viscosità cinematica, la placciano di V. Allora adesso andiamo a vedere, intanto nell'equazione di Beltrami possiamo vabbè, lasciamola così com'è, poi vediamo cosa succede con lo 0. Allora, quanto fa il rotore di A? Il rotore di A è facile, perché il rotore di un gradiente è 0, quindi questo è ν per il rotore del la placciano di V, che si vede facilmente con mutare, quindi è il la placciano del rotore di V, e quindi è ν per il la placciano di ω. Quindi, se andiamo a sostituire la derivata rispetto al tempo, allora, portiamo fuori 1 su 0 perché tanto è costante, uguale al gradiente di V. Ecco, mi sono accorto che c'era un ω su ρ anche qua, infatti se non mi tornava, e quindi questo è applicato a ω su ρ0, quindi ρ0 si semplifica in definitiva, e quindi abbiamo 1 su ρ0 ogni la placciano di ω. Quindi, semplificando ρ0, eccola l'equazione di evoluzione della vorticità in un fluido viscoso. Eccola, vedete che non è completamente indipendente dalla velocità, però comunque è molto interessante. Bisogna però non lasciarsi ingannare dalle analogie, perché è vero che questa è un'equazione alle derivate parziali, peraltro, diciamo, abbastanza simile all'equazione di Navier-Stokes, se vogliamo, però, per esempio, le sue condizioni al contorno sono completamente diverse. Allora, noi sappiamo che sulle superfici, sul bordo del nostro dominio, la condizione che viene assegnata di solito è che la velocità sia nulla. Ecco, allora cosa facciamo? Prendiamo una curva chiusa attorno a un punto P sulla superficie, quindi una gamma contenuta nel bordo di B, e chiaramente quindi la velocità su gamma sarà zero. A questo punto quindi anche l'integrale su gamma di V scalare di X, quindi la circuitazione di V su gamma sarà zero. ma allora se chiamiamo S la superficie contornata da gamma contenuta nel bordo di B, chiaramente per il teorema di Stokes avremo che l'integrale su S del rotore di V scalare N in D sigma è uguale a zero. Ma allora ovviamente per l'arbitrarietà di gamma troviamo subito e per continuità che il rotore di V, cioè Omega, in ogni punto P del bordo deve essere perpendicolare alla normale e quindi non ha per esempio condizioni di tipo di Richelieu. La vorticità è fondamentale anche per calcolare gli sforzi sulla superficie, sulle pareti del dominio occupato dal fluido, soprattutto nell'ipotesi in cui la velocità sia zero. Zero vuol dire velocità relativa e quindi noi faremo sempre l'ipotesi che il bordo sia fermo in un certo riferimento. Ma vediamo come fare che non è una cosa semplice. Allora per prima cosa dobbiamo definire una variante dell'integrale della circuitazione. Ora prendiamo un campo vettoriale di classi C1 e una curva chiusa ovviamente regolare. Ecco allora definiamo questo oggetto qua. Definiamo un vettore U in questo modo. Questo vettore è tale che per ogni campo costante A si abbia che U scalare A è uguale all'integrale su S del rotore di A vettore V scalare N in DH2 dove S è una superficie tale che il suo bordo sia uguale a gamma. è una di quelle di cui parla la formula di Stokes. Quindi se vogliamo uno ha la curva gamma e poi prende una qualunque superficie che ha questa curva come bordo e si vede facilmente che questa definizione è indipendente rifatto da S purché abbia gamma come bordo perché la divergenza del rotore è zero e quindi uno può cambiare da una superficie all'altra senza difficoltà. Ecco questo vettore U diciamo così adesso vediamo che cosa dovrebbe essere perché se io uso la formula di Stokes quindi questo è il rotore di A vettore V scalare N in DH2 è per la formula di Stokes l'integrale su gamma di A vettore V scalare di X usiamo questa notazione per la per la circuitazione e quindi questo è come dire a scalare l'integrale su gamma diciamo scambiando il prodotto scalare per il prodotto vettoriale di diciamo così V vettore di X che è quello che stiamo definendo quindi a scalare U ecco quindi la notazione che si può usare per U è questa qui sarebbe l'integrale su gamma di V vettore di X che è una generalizzazione o se volete una variante della della circuitazione ecco e allora vediamo un po' che proprietà ha questo oggetto perché è legato al discorso che vogliamo fare noi sviluppiamo quindi la sua definizione che cos'è il rotore di A vettore V ecco per questo serve una delle nostre tante formule questo è il gradiente di A applicato a V meno il gradiente di V applicato ad A più A per la divergenza di V meno V per la divergenza di A che ovviamente siccome A è costante si riduce semplicemente a A divergenza di V meno gradiente di V applicato ad A quindi abbiamo se vogliamo che l'integrale su gamma di questo V vettore di X di questa sorta di circuitazione vettoriale è anche l'integrale su S di divergenza di V meno il gradiente divergenza di V N scusate meno il gradiente di V applicato ad A volte scalare N ho sbagliato la divergenza di V A scalare N ecco meno gradiente di V applicato ad A scalare N in DH la quale espressione si può anche scrivere come questo termine sto indicando in rosso lo vedo come gradiente di V trasposto applicato a N scalare A e quindi posso portare fuori un A quindi questo qui in realtà è un A scalare ecco e quindi qui abbiamo un A scalare integrale su S di divergenza di V volte N meno gradiente di V trasposto applicato a N in DH2 e quindi basta diciamo così da questa da la vitalità di A riscende che questa quantità è uguale all'integrale su S di questa di quest'altra e voi direte ma che cosa ci importa di tutta questa pappardella e la cosa interessante è che per un fluido viscoso questa quantità qua è ovviamente 0 perché V è 0 sul bordo quindi se io prendo una come prima se io prendo una curva sul bordo e poi vado a beccare il pezzo di superficie che contorna questa curva il pezzo di bordo che contorna questa curva io so che questa quantità qui è uguale a 0 allora adesso facciamo così scriviamo che 0 è uguale all'integrale su S della divergenza di V volte N allora qui diciamo dividiamo in due pezzi un mezzo e un mezzo il gradiente di V trasposto e sommiamo e sottraiamo il gradiente di V applicato a N diviso 2 quindi abbiamo meno un mezzo gradiente di V trasposto quindi poi dobbiamo togliere un mezzo gradiente di V N che abbiamo aggiunto poi dobbiamo rimettere il gradiente di V trasposto che ci mancava ecco e questa quantità miracolosamente diventa allora i primi due che sto segnando in rosso è proprio la parte antisimmetrica del gradiente applicato a N e quindi esattamente più il rotore di V cioè Omega vettore N per le proprietà della parte antisimmetrica e l'altro è proprio la parte simmetrica del gradiente di V applicato a N quindi questo è D applicato a N in DH2 ma allora adesso consideriamo l'espressione del tensore degli sforzi lo facciamo nel caso di un fluido anche comprimibile sappiamo che questa è meno P per I più lambda traccio di D per l'identità più 2 mu per D e quindi ne segue che il T piccolo che sarebbe T applicato a N sarà meno P per N che è quello che c'è anche nei fluidi perfetti poi c'è più lambda divergenza di V per N e poi c'è più 2 mu di applicato a N e adesso arriva il miracolo vedete se io faccio ecco poi dimenticavo adesso se questa cosa qua è uguale a 0 per ogni S tale che il bordo di S è uguale a gamma e quindi a questo punto localizzandoci se io prendo la gamma sempre più piccola centrata intorno a un punto P da questa quantità discende che l'integrando deve essere 0 quindi stiamo così passando da qui localizzando uno scopre che D applicato a N è uguale a divergenza di V applicato a N più omega vettore N questo ovviamente per ogni P appartenente al bordo di B perché noi siamo sul bordo di B perfetto e quindi adesso quindi adesso è facile perché vedete che T piccolo quindi è uguale a meno P N poi c'è più allora dobbiamo raccogliere un andiamo a sostituire al posto di D N per cui abbiamo lambda divergenza di V per N che già sappiamo poi abbiamo più 2 mu divergenza di V per N più 2 mu omega vettore N e quindi alla fine viene meno P N più lambda più 2 mu divergenza di V N e poi viene più 2 mu omega vettore N che è proprio la formula che ci dà gli sforzi in un fluido viscoso eventualmente anche comprimibile ecco se poi la divergenza di V è 0 come nel caso dei fluidi incomprimibili vedete che la formula diventa ancora più specifica cioè c'è una parte che è dovuta alla pressione ed è quella che c'è anche nei fluidi perfetti e poi c'è la parte che è unicamente dovuta alla vorticità e fa capire ancora di più come sia quale sia grande ruolo che gioca la vorticità nei fluidi viscosi quindi per esempio nel caso del moto di poesiai quello del tubo avevamo visto che la vorticità era tutta tangenziale quindi la disegniamo così in nero e questa è la omega poi la n ovviamente è normale e quindi questo dimostra che lo sforzo viscoso in questo caso in viola è diretto in questa direzione qua a parte la pressione questo quindi è lo sforzo viscoso non quello dovuto alla pressione ecco nel caso di cuet invece qui avevamo due cilindri coarsiali avevamo visto che la vorticità era diretta verso l'asse lungo l'asse z quindi in questo caso la omega qui era diretta in questa direzione e siccome la normale è ovviamente questa in questo caso qui gli sforzi sono tangenziali gli sforzi viscosi sono tangenziali e dopo ovviamente c'è la pressione che è essenzialmente dovuta alla forza centrifuga prima di passare ai casi particolari ai fluidi piani e molti piani notiamo ancora una relazione c'è una relazione tra la dissipazione quindi 2 mu di scalare di e la vorticità cioè in questo caso il modulo della vorticità prendiamo allora l'espressione dell'accelerazione quindi dv su dt più gradiente di v applicato a v e proviamo a farne la divergenza quindi la divergenza di a è uguale a tanto derivata rispetto al tempo della divergenza di v questo va al volo adesso c'è la divergenza di gradiente di v applicato a v come al solito abbiamo usato tante volte che la divergenza di t trasposto u è uguale alla divergenza di t scalare u più t scalare gradiente di u e quindi la usiamo anche qui quindi abbiamo d su d t nella divergenza di v questa è una formula che vale sempre non solo per i fluidi è una formula di cinematica quindi abbiamo la divergenza del gradiente di v trasposto scalare v perché dobbiamo trasporre tutto poi più gradiente di v trasposto scalare gradiente di v ecco allora adesso andiamo a vedere ci ricordiamo nelle formule di analisi vettoriale che la divergenza di v trasposto è il gradiente della divergenza di v quindi questo termine qui è v scalare il gradiente della divergenza di v e quindi assieme a questo è già esattamente la derivata totale della divergenza di v quindi adesso ci resta il secondo pezzo quello in verde per il secondo pezzo facciamo così lo andiamo a scrivere gradiente di v trasposto scalare gradiente di v lo scriviamo aggiungiamo e togliamo il gradiente di v quindi facciamo gradiente di v trasposto più gradiente di v scalare gradiente di v meno gradiente di v scalare gradiente di v ecco abbiamo aggiunto e tolto un termine questo è chiaramente due volte di quindi abbiamo due volte di scalare gradiente di v e qua invece abbiamo possiamo decomporre gradiente di v in d più omega quindi prodotto scalare d più omega ora quanto fa di scalare gradiente di v vabbè di scalare gradiente di v adesso dobbiamo ricordarci che di scalare omega fa sempre zero quindi il primo pezzo è uguale a di scalare di due volte perché tanto di scalare omega fa zero e il secondo pezzo evidentemente è meno di scalare di meno omega scalare omega e quindi alla fine viene di scalare di meno omega scalare omega che è già una bella formula quindi abbiamo che la divergenza dell'accelerazione è uguale alla derivata totale della divergenza di v più di scalare di che è legato alla dissipazione meno omega scalare omega adesso omega scalare omega si vede subito perché è uguale a esattamente un mezzo omega scalare omega perché se scrivete la omega con il suo vettore rappresentativo cioè scrivete la matrice antisimmetrica con il suo a1 questo è a3 questo mi sembra meno a2 questo è meno a3 e questo lo mettiamo a1 o meno a1 non fa differenza se la moltiplicate scalarmente per se stessa viene due volte a1 al quadrato più a2 al quadrato più a3 al quadrato però il vettore rappresentativo di omega è un mezzo il rotolo di v per cui viene due volte omega al quadrato fratto 4 e quindi viene omega al quadrato mezzi ecco questa è la formula quindi possiamo mettere direttamente meno modulo di omega al quadrato mezzi ecco allora vediamo quindi supponiamo adesso di metterci in un fluido incomprimibile e supponiamo di integrare questa relazione qua su b quindi intanto divergenza di v è zero quindi abbiamo che l'integrale su b di di scalare di e moltiplichiamo anche per 2 mu già che ci siamo poi meno 2 mu integrale su b del modulo di omega al quadrato e tutto questo in dl3 questo è uguale all'integrale su b di 2 mu per la divergenza di a in dl3 ma allora possiamo applicare la teoria della divergenza e dire che questo è 2 mu integrale sul bordo di b di a scalare n in dh2 adesso cosa succede? l'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo totale però quindi questa è dv su dt più gradiente di v applicato a v per l'ennesima volta cosa succede? che sul bordo di b v è uguale a 0 quindi questo termine non c'è ma anche questo non c'è perché v è quello che non è 0 il gradiente di velocità il gradiente spaziale ma il gradiente temporale diciamo così sì perché se il bordo è fermo e se la velocità è uguale a 0 sul bordo anche l'accelerazione dei punti sarà uguale a 0 sul bordo e quindi se v è uguale a 0 sul bordo di b allora questo termine è nullo e quindi scopriamo che la dissipazione cioè l'integrale su b della dissipazione è uguale a 2 mu integrale su b della vorticità del modulo della vorticità al quadrato ecco che fa capire ancora meglio che è la dissipazione la responsabile dell'esistenza della vorticità ecco scusate qui c'era un fratto 2 e quindi questo non c'è che è ancora più bello ecco notiamo così prima di passare il caso piano che se io faccio come sottoprodotto di quello che abbiamo appena visto il gradiente di v scalare il gradiente di v integrato su b questo è quindi di scalare di più omega scalare omega chiaramente per la decomposizione di L3 e quindi questo è l'integrale su b di t scalare di più un mezzo integrale di omega al quadrato tutti i due in L3 ecco però abbiamo visto poco fa che se v è uguale a 0 al bordo allora d scalare di è anche uguale l'integrale di d scalare di è anche uguale a l'integrale di omega al quadrato mezzi ecco e di conseguenza alla fine risulta che l'integrale sul bordo di b del gradiente di v al quadrato diciamo nella sua norma è anche uguale all'integrale su b semplicemente uguale all'integrale su b della norma del rotore di v al quadrato sono esattamente uguali e questo ci tornerà utile quando parleremo nella lezione prossima dell'equazione di Navier-Stux adesso rapidamente andiamo a vedere il caso piano nel caso piano l'equazione di Beltrami nel nostro caso si scrive si scrive di omega su di t uguale gradiente di v applicato a omega più nu la placiana di omega come abbiamo visto prima e questo in generale cosa succede nel caso piano nel caso piano succede che omega è tutto diretto lungo e3 e quindi mentre invece v è tutto diretto nel piano quindi è v1 più v2 ecco ne segue come avete visto che il gradiente di v è fatto soltanto da questi termini qua perché v e v dipendono solo da x e quindi qui ci sono tutti i zeri e quindi quando fate il gradiente lo applicate a omega viene 0 quindi questo termine qui è uguale a 0 quindi l'equazione di Beltrami diventa di omega su di t uguale nu la placiana di omega che è abbastanza simile all'equazione del calore volendo semplificare questo questo tipo di equazione che non è proprio come l'equazione del calore si possono considerare delle traiettorie di tipo circolare dove la la velocità il modulo della velocità è una funzione soltanto della distanza rho dall'asse e quindi diciamo così è tutta tangenziale diciamo che v è uguale a v teta di rho e rho ecco avevamo già calcolato in questo caso il rotore che risultava essere 1 su r 1 su rho scusate di su di rho di rho v teta abbiamo fatto nel caso di quet ed è diretto lungo ez quindi cosa vuol dire qui bisogna avere un po' di pazienza bisogna andare a farsi perché questo termine qua è derivata di omega rispetto al tempo più purtroppo c'è il gradiente di omega applicato a v allora bisogna andare a prendersi il gradiente in coordinate cilindriche e accorgersi che sostanzialmente diciamo tutta la matrice è nulla il gradiente di omega salvo questo pezzo qua questo pezzo qua che è quello che ha la derivata di omega z fatta rispetto a rho sì perché evidentemente il rotore di v cioè omega è una funzione soltanto di rho ed è diretta come z ecco gli altri sono tutti zero bisogna prendersi un manuale e andare a vedere l'avevamo fatto in meccanica razionale per la verità però non l'avevamo dimostrato c'erano le dispense invece per quanto riguarda la velocità è facile perché c'è zero e poi c'è v teta e poi c'è zero basta e quindi questo è sufficiente per dire che quel termine lì è tutto nulo di conseguenza in questo tipo di moti che sono delle diciamo dei moti circolari con velocità angolari diverse ovviamente verifica l'equazione del calore quindi d omega su dt uguale a nu la placiana di omega che è scritto in coordinate cilindriche diventa derivata seconda di omega fatta rispetto a rho due volte più uno su rho derivata di omega fatta rispetto a rho allora cominciamo a semplificare la cosa ponendo t primo quale nu t col che si vede immediatamente che senza cambiare le altre variabili d omega su d primo è uguale su dt primo è uguale a derivata seconda di omega su quadro più uno su rho d omega su di rho cerchiamo una soluzione di questa equazione di questa forma omega di t e rho come una funzione una potenza del tempo per una funzione di una variabile tipica dell'equazione del calore rho quadro fratto t anche questa variabile nasce da un riscalamento quello in cui t primo viene posto uguale ad alfa al quadrato tau e rho viene posto uguale a alfa r mettiamo in modo che se uno ricava alfa alfa sarebbe anzi chiamiamolo alfa rho primo in modo che se uno ricava alfa che è rho su rho primo si accorge che t primo fratto tau è uguale a rho al quadrato su rho primo al quadrato e che quindi la quantità t primo fratto rho al quadrato che sono le variabili vecchie è la stessa che hanno le variabili nuove questo suggerisce che ci possano essere delle funzioni di questa quantità qui o dalla sua inversa che è la stessa comunque al di là di tutto vediamo come procedere il conto non è difficile sono conti abbastanza algebrici andiamo a vedere qual è l'equazione per f e poi vedremo un paio di case e poi basta allora se deriviamo rispetto al tempo abbiamo un alfa t al alfa meno 1 questa quantità rho quadro su t la chiamiamo u per f di u va bene poi c'è più t alla alfa f primo di u per meno rho al quadrato su t al quadrato quindi fa alfa t alla alfa meno 1 f di u più t alla alfa anzi meno t alla alfa meno 2 rho al quadrato f primo di u calcoliamo d'omega su d'rho d'omega su d'rho è facile perché t alla alfa per 2 rho su t ah ho dimenticato di dire dove in poi scrivo t al posto di t' e ricordiamoci dopo che questo deve diventare nu per t per non avere tutti i primi allora dicevamo t alla alfa 2 rho su t per f primo di u questo è d'omega su d'rho facciamo la derivata seconda che viene che diventa quindi allora questo se vogliamo andiamo completiamolo questo diventa un t alla alfa meno 1 per 2 rho f primo di u quindi la derivata seconda di omega fatta rispetto a rho due volte è un t alla alfa meno 1 che moltiplica due volte f primo di u più 4 volte rho su t per f secondo di u infine 1 su rho d'omega su d'rho che è l'altro pezzo che rimane nell'equazione è semplicemente 2 t alla alfa meno 1 f primo di u ecco mettiamo tutto insieme e vediamo che cosa esce quindi alfa t alla alfa meno 1 f di u più t alla alfa anzi meno t alla alfa meno 2 che scriviamo in questo modo t alla alfa meno 1 per rho quadro su t per f primo di u e questo deve essere uguale alla derivata seconda quindi t alla alfa meno 1 che moltiplica 2f primo di u più 4 rho qui c'era un rho al quadrato che ho dimenticato eh esatto perché quando si deriva il rho va via quando esce l'altro diventa rho al quadrato su t per f secondo di u e infine l'ultimo termine quindi più 2 t alla alfa meno 1 f primo di u allora come vedete t alla alfa meno 1 si semplifica dappertutto e quindi adesso la cosa interessante è che nell'equazione si evidenzia proprio la variabile u è proprio questo il fatto che rende particolare questa variabile per questo tipo di equazione quindi adesso andiamo a riscrivere abbiamo quindi 4u f secondo di u poi abbiamo questi due termini in blu che sono che danno un 4 f primo di u uguale a meno u f primo di u più alfa f di u e quindi andiamo a scrivere l'equazione finale 4u f secondo di u più u più 4 f primo di u meno alfa f uguale a 0 ecco adesso diciamo si possono trovare delle soluzioni esatte dell'equazione di partenza dell'equazione per la vorticità se siamo in grado di risolvere questo tipo di problema e allora si vede subito che questa cosa qua non ammette per soluzione un polinomio perché quando si si deriva il polinomio questo si abbassa di grado e questo u più 4 non permette di recuperare lo stesso tipo di potenza e quindi in generale un polinomio non è soluzione di questa equazione allora diciamo bisogna sapere dove andare a parare facciamo un tentativo e mettiamo una funzione del tipo e alla beta u ecco con beta appartenente a r e andiamo a vedere che questa è giusta del resto quando si ha l'equazione del calore non si aspetta soluzioni di tipo esponenziale allora il conto è molto facile f' di u è beta e alla beta u e f' di u è beta al quadrato e alla beta u quindi andiamo a vedere che cosa succede abbiamo 4u beta al quadrato e alla beta u più u più 4 per f' quindi beta e alla beta u meno alfa e alla beta u l'equazione è comunque lineare anche se ha coefficienti non costanti quindi andiamo a vedere se con questa scelta siamo in grado di soddisfare l'equazione allora abbiamo possiamo vedete raccogliere possiamo scrivere u che moltiplica 4 beta al quadrato più beta e poi ci resta più 4 beta meno alfa uguale a 0 per e alla beta u che si è semplificato allora ovviamente questo è un po' di nome del primo grado deve essere identicamente nullo quindi ci sono due possibilità o beta uguale a 0 che vuol dire che f è una costante ma a questo punto se f è costante alfa è 0 e non viene niente oppure beta uguale a meno un quarto ecco se beta è uguale a meno un quarto segue che alfa è uguale a meno 1 e questa è una soluzione buona quindi f di u sarebbe e alla meno u fratto 4 e la soluzione finale la omega di t e rho sarebbe t alla meno 1 per e alla meno u fratto 4 che messa più specificatamente sarebbe un 1 fratto nu per t perché ricordate che t era alla fine nu per t per l'esponenziale di meno 1 fratto 4 anzi scusate rho al quadrato fratto 4 nu per t che è a tempo fissato una gaussiana una funzione a campana di quelle che si incontrano che abbiamo incontrato nel calcolo delle probabilità ed è interessante perché questa funzione qua poi allora l'equazione è ovviamente omogenea quindi se una omega è soluzione è anche costante per omega è soluzione quindi non può per esempio richiedere che non so per esempio che l'integrale di questa funzione faccia 1 insomma ci sono vari modi di dare una normalizzazione di questa equazione la cosa interessante di questa equazione è che diciamo tende a una delta di Dirac nel tempo scusate in rho se t tende a 0 cioè tende a essere una un picco di vorticità sempre più sempre più appuntito al tendere di t a 0 l'unico difetto di questa soluzione è la velocità vediamo infatti di trovare il modulo della velocità che era dato da 1 su rho d su d rho di rho q uguale a omega quindi in questo caso qui vedete che d su d rho di rho per q q sarebbe v quadro è uguale a rho fratto nu per t esponenziale di meno rho quadrato fratto 4 nu t e questo si può integrare abbastanza bene perché vedete che dice proprio fuori la derivata per cui questo diventa un meno diciamo così abbiamo un integrale del tipo integrale fra 0 e rho di xi fratto nu per t esponenziale di meno xi al quadrato fratto 4 nu t atti fissato in d xi e questa cosa qui è una cosa del tipo sarebbe meno l'esponenziale di xi al quadrato fratto 4 nu t e probabilmente c'è da mettere un 2 o qualcosa del genere calcolato fra 0 e rho non è questo che mi interessava diciamo il punto è che questo viene 2 che moltiplica 1 meno l'esponenziale o a meno delle costanti di xi al quadrato fratto 4 nu t e questo sarebbe rho q ok allora rho q è questo no scusate qui c'è rho per cui q è della forma 2 su rho per 1 meno esponenziale di rho al quadrato fratto 4 nu t ecco questo affare qui questo sarebbe q sarebbe il modulo della velocità quindi se uno vuole calcolarsi l'energia cinetica totale associata a questo moto deve fare l'integrale da 0 infinito di un mezzo densità la mettiamo uguale a 1 chiamiamo rho 0 ecco va bene se volete ma non c'entra con la rho di chi viene integrata per 4 su rho al quadrato per questa quantità qua ecco e questo in r poi va moltiplicato tra 0 e 2 pi greco e va integrata in rho e in di rho e il problema vedete che qui c'è un rho al quadrato che metto in rosso che vi fa capire che naturalmente qui c'è un meno che mi sono dimenticato dappertutto l'esponenziale non è un problema l'esponenziale tende a 0 il problema è che questo rho moltiplicato per rho al quadrato dà origine a un più infinito ovviamente un logaritmo di rho e questa diverge di conseguenza questo è un motto diciamo così poco fisico da un certo punto di vista perché ha energia cinetica infinita un'altra soluzione di questa equazione qui invece che si può fare con un pochino di conti che non faremo ecco invece questa prendiamo ecco andiamo a fare una sostituzione andiamo a cercare una soluzione diremente diversa una soluzione di questo tipo ce ne sono tante dipende da quello che si vuole ottenere dalla forma u più a per e alla meno b per u ecco quindi diremente anzi facciamo più b per u così è uguale a quella di prima è simile a quella di prima ecco avevo messo beta va bene d'accordo ecco allora qui se si fanno un sacco di conti che vi risparmio perché sono veramente molto semplici qui si scopre che b deve continuare a essere meno un quarto mentre alfa diventa meno due stavolta e a diventa uguale a meno quattro di conseguenza la soluzione la omega di t e rho stavolta diventa meno quattro più u che sarebbe rho al quadrato fratto t per l'esponenziale di meno uno fratto poi qui c'è il nu naturalmente nu t per rho al quadrato ecco che si può scrivere in quest'altro modo si può scrivere come meno quattro che moltiplica ah scusate poi c'è il c'è il t ho dimenticato un pezzo c'è il t alla meno due quindi uno fratto t alla seconda perché viene da questo alfa uguale a meno due c'è un t alla alfa quindi questo si può scrivere come quattro su e poi ci vuole anche il nu allora questo è omega di t rho uguale uno fratto nu al quadrato t al quadrato ecco e quindi viene un quattro fratto nu quadro t quadro per rho al quadrato su quattro nu t meno uno vedete che è sempre la stessa variabile che dice e alla meno rho al quadrato fratto fratto quattro nu t ecco con un po' di pazienza si può vedere che questa equazione qua allora fissato t fissato t maggiore di zero e qui la vorticità non è sempre decrescente come si come veniva prima qui non viene non viene una gaussiana viene una cosa più complicata nel senso che questa cosa qui quando rho è uguale a zero parte negativa dopo di che sale ammette un massimo e poi tende a zero e quindi è un po' più è un po' meno singolare dell'altra anche se comunque questa al tendere di di t a zero qualche comportamento particolare ce l'ha e diciamo andando a farsi tutti i conti di prima che ci risparmiamo perché adesso diventa un po' più difficile integrare questa qua in rho però il procedimento è sempre lo stesso basta prendere uno su rho adesso dei rho di rho uguale a omega e si trovano e si trova la la velocità a conti fatti la velocità risulta essere proporzionale adesso non so se sono giusti i coefficienti rho su 4 nu t al quadrato e alla meno rho al quadrato su 4 nu t ecco e vedete che in questo caso si vede subito che se io vado a fare l'integrale di rho zero quel quadrato in d a in d h 2 su tutto il piano ok su tutto r2 questo è finito questo è finito perché diventa rho zero ci vuole un mezzo naturalmente anche prima ci voleva un mezzo energia cinetica questo è finito perché comunque sia siccome non ci sono termini tutti i termini moltiplicano l'esponenziale se anche uno mette rho su 4 nu t al quadrato quindi qui c'è l'integrale tra 0 e 2 pi greco l'integrale tra 0 e più infinito poi e alla meno rho quadro su 4 nu t e poi questo va moltiplicato per rho di rho di teta ecco uno può metterci tutti tutti i rho che vuole ma tanto poi l'esponenziale da origine a un'energia cinetica minore finita e tra l'altro anche il momento angolare totale rispetto all'origine anche il modulo del momento angolare totale cioè l'integrale fra 0 l'integrale su tutto r2 di rho 0 q che sarebbe mv per rho la distanza mvr per rho di rho di teta ecco anche questa quantità qua è minore di più infinito ed è legata diciamo così alla costante che sta davanti alla costante di normalizzazione della vorticità in ogni caso tutte queste formule mostrano che la presenza di viscosità questo questi vortici diciamo hanno una vorticità totale che decresce nel tempo con un'energia cioè con un decadimento di tipo esponenziale attettати un commento città